Questo è un momento molto particolare per la misericordia perché appunto stiamo affrontando tutto il problema della pandemia, ma non solo, ma stiamo anche affrontando quelle che sono le conseguenze sociali della pandemia. La gente tende meno ad aggregarsi, a fare meno volontariato e poi c'è tutto il discorso della nuova legge 83 della Regione Toscana che condizionerà in futuro tutto l'andamento della misericordia.